Musica Questa è la Rassegna Stampa Occhio ai Giornali Buongiorno e ben ritrovati a tutti i carissimi telespettatori Oggi è mercoledì 20 aprile 2016 Ben ritrovati dunque, cominciamo con il Santo del Giorno Oggi è una santa, una beata, beata Chiara Bosatta È una santa che nacque a Pianello Lario in provincia di Como nel 1858 Il sole è sorto alle 6.15, tramonterà alle 19.58 minuti Oggi avremo un cielo sereno, poco nuvoloso Anzi direi che è serenissimo a guardare la grafica per tutta la giornata di oggi E vedete in tutta la regione Domani ancora tempo buono con soltanto poche nuvole Temperature senza variazione di rilievo Venerdì ecco che comincia a peggiorare Infatti sabato, domenica e lunedì poi avremo tre giorni di pioggia Poco nuvoloso sarà nella giornata di venerdì 22 Con possibilità di locali rovesci durante le ore centrali Più probabile però nelle zone dell'entroterra Tempo instabile, dicevo, fine settimana Con temperature in graduale diminuzione Allora arriva venerdì Laura Boldrini La Presidente della Camera a Fano Si tratta adesso anche per far arrivare qui in città il Premier Matteo Renzi E questa è la notizia che troverete sulla pagina di Fano del resto del Carlino Dopo la Boldrini si aspetta Renzi Contatti per avere il Premier alla cerimonia per il piccolo divan Che è questo bambino che è nato nel Mediterraneo E ospite con la sua mamma a Fano Ospite della cooperativa Labirinto E allora siccome venerdì c'è questo appuntamento alle 16.30 Per ora è l'unico confermato al Teatro della Fortuna Per festeggiare 25 anni di Fano Città delle Bambine e dei Bambini Adesso si lavora anche per portare Matteo Renzi a Fano Centrodestra a cena Si è riunita l'altra sera un po' di gente del centrodestra Guzzi non è stato invitato E lui dice tanto non ci andavo Mentre Paolini dice insomma Questa più che la cena del centrodestra È stata la cena degli ingrati E poi la pagina di Pesaro invece Con la cronaca ubriaco Maltratta che maltratta la moglie È stato arrestato Oggi la convalida dell'arresto per il giovane romeno Tra l'altro recidivo Un romeno di 27 anni Addio invece a Osmilde Gabucci Per 30 anni ha gestito una gioielleria In piazza del popolo Proprio accanto al bar centrale Osmilde Gabucci aveva 63 anni Moglie di Adriano Perlini L'altra pagina In bici travolto Siamo sulla pagina di Fano In bici ubriaco Travolto e denunciato L'uomo giunto in ospedale È stato curato e sottoposto all'alcol test Unica certezza L'imputato non rischia il ritiro della patente Lo dice la Cassazione Sui servizi sociali invece Fanesi Fumata nera per l'ambito Non c'è accordo sul coordinatore L'assemblea dei sindaci rinvia la scelta Nuovi colloqui in vista E primi malumori Rinnovo patente 24 anziani truffati Medico nei guai Ma è bipolare Chiedeva 50 euro Ad ottantenni La difesa vuole una perizia La domanda adesso è lecita Cioè se Il PM si chiede Se siano affidabili A questo punto Gli automobilisti Che sono stati abilitati dal dottore Che probabilmente sono stati abilitati Anche un po' così Ecco insomma Adesso questa è una domanda legittima Vediamo Storie di turismo invece C'è la Bild Un giornale tedesco Che pensate È arrivato a scrivere E a ipotizzare Dei kamikaze Quelli che si fanno esplodere Lungo le spiagge adriatiche Siamo veramente alla follia Questo perché I servizi Secondo la fonte di questo giornale I servizi segreti italiani Avrebbero allertato Pensate quelli tedeschi Alfano dice Guardate Il ministro dell'interno Dice guardate Sono delle bufale Però il messaggio A questi turisti È stato lanciato E Dicendo appunto Che l'Adriatico Sarebbe nel mirino Dell'Isis Chiaramente non c'è da crederci Per nulla Per niente Perché Secondo tra l'altro Per esempio L'interpretazione data Da Boris Rappa Che è già Presidente Dell'Asso Turismo Marche Dice guarda caso Questo pseudo allarme È indirizzato Verso l'Italia La Spagna La Francia Quando la Germania Che ha lanciato l'allarme Appunto Ha comprato Diversi aeroporti In Grecia E dunque Ha molti interessi economici Anche in Turchia Dunque Come dire Sono notizie Che fanno Create ad arte Per indirizzare Indirizzare I flussi turistici Da un paese All'altro E quindi insomma Ci hanno provato Con questa cosa qua Va beh Andiamo adesso Sul Corriere Adriatico Andiamo sulla pagina Di Senigallia I furti Massacrati dai furti Alzano le mani Questi due signori Gestori Elena e Gianni E dicono Noi non ce la facciamo più Ci arrendiamo Niente mutuo Dalla banca Caffè Time Dunque chiude Non abbiamo i soldi Neppure per pagare L'Enel Sotto invece Due lutti Il primo Alexandra Un angelo dagli occhi blu Era piena di vita Nonostante la malattia Il ricordo Di Nenella Impiglia E Roger Conti Oggi funerali Al portone Mentre Morto il mitico Colaussi Se n'è andato A 91 anni Ex calciatore Ed animatore Dello sport Andiamo Avanti Con il Corriere Adriatico La pagina di Pesaro Ricci E Ceriscioli Un duello D'arroganza Parla Amerigo Varotti Che annuncia La rivoluzione All'interno di Confcommercio Sull'outlet Di Marotta Un PD Vergognoso Dice Varotti La regione Non investe Risorse sul territorio E i ritardi Nell'approvazione Del bilancio Ingestano Praticamente Tutto Blitz Antidroga Invece A Fossombrone All'istituto Donati Carabinieri E cani molecolari Tra i banchi La preside Dice Questa è una Scuola sicura È un nuovo Blitz Antidroga Sorpresa Che comunque Ciclicamente Ogni tanto Viene fatto Non solo A Fossombrone Ma un po' In tutte Le scuole Della provincia Fano Medio leasing La variante Causa Il dissesto A Madonna Ponte Gli affidamenti Più alti 48,3 milioni E Tombari Comprava le azioni Di banca Marche Scrive il Corriere I finanziamenti Concessi Alla società Fanese Senza alcuna garanzia E con carenze Di istruttori E valutazione Dal 2009 Al 2012 La fondazione Carifano Investiva Nelle azioni Della controllante 45,7 milioni Di euro Vertenza Lisippo Si riparte Dal tribunale Di Pesaro Dopo il ricorso A Cassazione Consulta Del Getty Museum Che per la confisca Della statua Investito Il terzo giudice Sanità No alla privatizzazione Così Aguzzi L'ex sindaco Di Fano Giustifica la sua Giravolta Sull'ospedale unico Lo faranno Secondo L'ex sindaco Appunto A muraglia I canoni Pagati Dalla società Aset Incamerati Dalla comune E non destinati Ai servizi Sono una tassa Occulta L'ex sindaco Protesta Il centrodestra Senza di me Un inganno Quale sarà Il futuro politico Dunque di Aguzzi Che nel 2004 Fu il protagonista Di uno storico Cambiamento Di giunta Beh In questi giorni È stata organizzata Una cena Sotto l'apparvenza Di una Rimpatriata Di ex amministratore Di centrodestra Però Insomma Senza di me Dice Guzzi Il centrodestra È un inganno Da San Lorenzo Strade Scolmatore Parco Giochi San Lorenzo In campo Le priorità Dei cantieri Che si apriranno A giorni Dell'Onti Dice Dell'Onti Incentiviamo Il turismo Chiudiamo Con il messaggero Questa è la pagina Di Pesaro Fusioni L'input Di Ceriscioli Il governatore Parla Della fusione Urbino Tavoletto E Pesaro Monbaloccio Che dunque Vanno in archivio Ma nelle marche Dice il governatore Si va avanti Ricci Lavoreremo Per allargare L'Unione Dei Comuni Ripercussioni Dopo il referendum Fallito Il 2016 Già in flessione Calano le imprese Dunque Continuano a calare Anche il 2016 Inizia in salita Nel primo trimestre Il registro imprese Della Camera di Commercio Ha registrato Una flessione Di aziende Pari a 251 imprese Sotto Ubriachi Picchiano I clienti Del bar Siete Dell'Isis L'aggressione Affano Vittime Due Tunisini Il PM Ha chiesto Tre anni E quattro mesi Di reclusione Vecchia Banca delle Marche Slittano I rimborsi Sempre più vicina Alla vendita Della nuova Banca Marche Invece Particolare L'interesse Di Cari Parma Burioni Un medico Su Facebook Spiego Il buono Dei vaccini La pagina Del ricercatore Pesarese È diventato Un fenomeno Social Un contraltare Scientifico Nelle piattaforme Dove invece Pullulano Gli scettici E aggiungerei io Anche tanta disinformazione Varotti Attacca l'arroganza Del Ricci Nel Mirino Finisce anche Confindustria Bollata come Associazione Poco rappresentativa Dell'impresa privata E questa mattina E questa mattina Alle 9.30 A chiusa di Ginestretto Ci sarà invece Un presidio Dei metalmeccanici Con quattro ore Di sciopero Proclamato Dai appunto Sindacati Ceriscioli Dicevamo Sulle fusioni E unioni Comunque Dice Andiamo avanti E a Monbaroccio Si prepara la festa Per sabato Tutti in piazza Con porchetta e vino Per festeggiare La vittoria Al referendum Monbaroccio Fa festa Tende la mano Anche a quelli Che hanno votato Sì Il sindaco Ricci Dice a Pesaro Subito al lavoro Per allargare L'unione dei comuni Critica l'opposizione Persa Una occasione Il CRAS Invece Che il centro Di recupero Animali selvatici Senza più i fondi È appiedato Sulle strage È una strada Di caprioli Con la primavera Il servizio diventa Sempre più necessario Gli animalisti Cercano fondi Da trasformare In buoni benzina La polizia Blocca il bus Che porta Gli alunni In gita scolastica E il viaggio Diventa Una odissea Così come Tra l'altro Abbiamo Visto Sul Corriere Sul Corriere Adria Scusate Sul resto Del Carlino Dove Franceschetti Nel suo pezzo Racconta Anche del fatto Cioè come è possibile Che questi Alunni Siano stati Fermati Abbiano dovuto Cambiare Per tre Volte Il pullman Perché Scrive Questi istituti Così come L'istituto Comprensivo Che ha organizzato La gita Ha ricevuto Un vademecum Della polizia stradale Inviato a tutte le scuole Dal ministero Il 3 febbraio scorso Chiedendo Di chiamare La pattuglia Per ispezionare I pullman Prima delle gite Ok Questo è importante Ecco perché E io spero che continuino Perché è importante Questa Quest'azione qua Chiudiamo con la pagina di Fano Del Messaggero Nuova scuola C'è il bando E la palestra Sarà essenziale Fino al 31 maggio Le imprese potranno Partecipare Alle gare per l'edificio La primaria Sarà al servizio Di Carrara E Cucurano Con un bacino Di 300 famiglie Per l'assessore Fanesi Anche un sopralluogo Alla d'Arsena Borghese Prima del restauro Bene La foto di Ignazio Pucci Lo vedete Democrat Pucci Candidato unico Piace anche Alla base Del partito Con la bella stagione Invece sul lungomare Di Marotta Tornano in azione I latri Di biciclette Sotto Ospedale unico Battibecchi multipli Botte risposta Tra Sinistra Unita E Luca Stefanelli Intanto Baldelli Con Fratelli d'Italia Lancia l'hashtag Su Twitter E con questo Chiudiamo qui La nostra segna stampa Grazie per averci seguito Vi auguro una buona giornata E vi do appuntamento Questa sera Alle 20.30 Con occhio alla notizia Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti.